Ella ragazzi salve a tutti bentornati con questa nuova parte su della story La scorsa parte siamo entrati dentro i sotterranei del castello Per scoprire qualcosa di più sull'ignoto Quindi ora sappiamo che praticamente l'ignoto è diviso in due C'è un pezzo qua al nord e un pezzo al sud E' tipo... teoricamente è arrivato per salvare il pianeta ma non ha salvato un cacchio Quindi l'ha solo peggiorato Allora, come vi avevo già anticipato la scorsa parte io sono andato a fare le arene E ho portato Zeile al 41, quasi al 42 mi pare Mentre tutti gli altri sono al 40 Quindi già mi sembra una buona roba Ora, cosa devo fare? La domanda è sempre... non cambia mai Cosa... cosa? Teri nell'arena, come fai ad essere già qua col boccare di... ma che cacchio Torno al castello quando ti senti meglio Ok, quindi dovrò andare al castello Per quanto ancora pensi di genitorare, sei l'uomo del momento, comporta il dovere Fai meglio tornare al castello E ci vado un attimo, stai calmo, capito? Vacca vacca, tutta questa pressione, per cosa? Cacchio... ah, il cacchio, vero Mi ero scordato, ce lo vado a sposare Eh, ma sai, sono quelle cose che ti scordi, no? Preparativi per la vostra cerimonia di investitura sono terminati Ok Come cavaliere non potrete tornare in città senza il permesso del conte Oh mio Dio, ma che palle Sì, perché tanto sennò ci fanno girare a caso Cerimonia... sì, ho capito? Cosa vuol dire? Aspetta, solo per adesso non posso tornare Non è che adesso mi rinchiudete qui dentro il castello Non posso più fare un cacchio, eh? E no? Non si fa così Oh mio Dio, ma ci sposiamo davvero? Ma come, come, come? Quanto è falso tutta sta roba? Eh beh Cosa? Quanto è passato? Due giorni sono passati? Tre giorni che l'abbiamo conosciuta? Pensare a dire la camera del conte Ah, in camera ci, ci, ci investono Invece non... Vabbè Oh Eh, no, preferisco guardare il conte, eh Devo guardare Oh Ok Il conte rappresenta il tuo obiettivo di felicità come un knight Un knight deve valutare il suo obiettivo e il suo maestro, above all'altro Do you understand? Eh Yes Yes Cosa fa? L'ammazza? No C'è troppa gente Zale Zale Swear to remain my loyal knight until the day that you die Eh, se hai rifiuto cosa succede? Eh, rifiutiamo Non voglio vedere cosa succede Per me My apologies, Count Argonand I am afraid I cannot bring myself the swear fealty to you What did you say? You told me that you started this war for the sake of saving lives No, aspettate, forse ho fatto la scelta giusta But I believe you know better than that You know what is causing the land to decay Why you... Did you visit that hidden accursed place? What nonsense were you talking about? No, forse, forse se giuravano fedeltà diceva qualcosa a Zale Che una volta che volevo fare la scelta sbagliata non posso farla? Eh, va bene Sì, qua li spiega quello che... Se avem spiegato You chose to use this power to further your own ambition And what if I did? The power of the outsider belongs to the house of Argonand And it is precisely because of this power that I am able to offer you a knighthood Do not wish to become a knight, Zale Your knighthood can go to hell You don't have the right to decide who's worthy of a knighthood If becoming a knight means serving you I'd rather stay a mercenary for the rest of my life I'm not so low that I'd sell my soul for the sake of a pretty title Na 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 E perchè guarda Tyrius? Al cinema anche Tyrius No Così Oh, lo sapevo Si faccia qualcosa Così? Contro quanti poi? Tutti dorati Argentati Andiamo da Kalista Kalista Sto stai arrivando Sono un uomo migliore Kalista E' finita così Oh, oh, oh 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 I could tell We've worked together for so many years I know how your mind works as well as I know myself Then please Let me do what I have to do Sorry, but I can't Dagran How hard do you think I've worked to make your dream come true? And just when it's finally about to happen, you want to throw that all away? This isn't just about you If you look out of here, all of our futures will be shattered Are you alright with that? I am sorry Dagran I really appreciate everything you've done But I I just can't do this In that case, I'll have to stop you by force Cosa? Ah Ho preso un colpo Eh Ignorato Che spada c'ha comunque? No, è un pugnale Tipo una spadina Però non è la stessa del conto, vero? Che cacca ci fanno loro qui dentro? Hey, Seren Can't you at least pretend to have some manners? Oh It makes me sick What that idiot's doing Is he really alright with this? Alright with what? Did you see Callista's face? Not a trace of a smile on it And this is her wedding day He gets the knighthood He gets the girl But does he deserve it if he can't even make her happy? Seriously? I know what you're saying But he made this decision We've got to support him in So let's lighten up Yeah? Huh? Non li caga Master Zale Lady Callista Is not yet ready No me ne sbato niente Mi ricordonna I finally figured it out Callista I know what I have to do Let's put an end to this war And let's live our lives together In freedom Please Callista Come with me L'unica esaltata Praticamente Eh, eh, è posto No, if he's truly refused to serve you I would choose him a thousand times over Callista Do you mean to defy me too? Si Oh ho ho Oh mio dio Oh mio dio Porca vaga che cinquina E allora che applaudono ancora Oh mio dio Fuga Dov'è Dagran? Non me ne frega niente Andiamo Andiamo Ce n'è Con la musica Tipo del combattimento contro 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 Ma cosa vorrete? Anche loro Anche loro Oh Si applaudite Musica del combattimento col generale Quanto ma pompa Ma quello è ancora lì? No non posso uscire Vado in cortile Carista dove andiamo? Andiamo nelle prigioni Viaggio di nozze nelle prigioni Dove cacchio devo andare? Non ho idea farò sta musica mica su un sacco Jay per favore potresti smettere la licorio? No sei sento c'è la musica Ma sta continuando a stagliare la strada Si lo so mi sono perso Sarà di controllo si trova il piano di sopra Cosa? Forse ci sono Cosa devo fare? Conto a continuare a sostituire Devo distruggere il cannone Si è fermata la musica Quello è successo? Che è successo? Ah ma noi siamo ancora lì? Cioè ma c'era tutta l'aria bella Felice Aria pulita Oh mi sa che è arrivato qualcuno però Dove cacchio siamo? Eh si eh Sai che c'era Zangurak Sono più intelligenti di me come Sempre detto Eh mi sa che siamo un po' Un po' incasinati Forse No Tutto a posto Guarda Che siano 33 Così Capito le manette Ehi la Zoppetto Che ci sono Siamo fatta con questo pazzesco. Ci sono alcuni di persone qui hanno bisogno di nostra aiutazione di più di te. Ci possono essere salvati dopo che il Gorak si sono trattati. Tu pensi? Dopo il tempo che ci siamo arrivati, la città potrebbe essere in ruina. Cos'è così, allora. Io ho cercato di portare un plan che avvicinare il Gorak in una scuola. Ma con nessuna protezione, i miei chances di successo sono piccoli. E' una scuola che così molti dovrebbero morire. Mi scordi al ruolo di controllo di Turet in un lato militare. Prendi la potenza del canone di Lasalus e annihilare la loro fortuna. Tu puoi davvero fare questo? Ma ovviamente. Sono il presidente della casa di Argonon e il maestro di questa isla. Cosa gli rispondono? Ah no, ma no! Ci sono io di sopra! Ancora tu, ma che pancre! Ma io voglio scoparmi un uovo, non un uovo! Guarda, di quanto hai la testa. E perché sei accettato? Mieeeeh! Ah, la scorreggia se n'è andata. Forse era Bowser che...